Niente acqua calda nell'intero condominio. Succede tutte le sere a Gregnano in Vialimberti 84. In questo condominio, costruito negli anni 70, da gennaio tutte le sere la pressione dell'acqua si abbassa quasi del tutto. Dalle 21.30 in poi, dai rubinetti scende appena un filo d'acqua. La bassa pressione non permette tra l'altro alla caldaia nemmeno di accendersi e l'acqua quindi è fredda. Praticamente l'acqua calda è inesistente perché se non c'è pressione la caldaia non parte perché ha una sicurezza che senza la pressione non parte. Per cui se uno avesse intenzione di farsi una doccia all'11 la sera perché gli è caldo, perché torna di fuori per qualsiasi ragione, non la può fare assolutamente. L'acqua fredda ce n'è pochissima, a volte c'è quella abbastanza per lavarsi i denti. Sei famiglie e un intero condominio senza acqua calda durante la notte ormai da molti molti mesi. Il tutto nonostante sette interventi da parte del gestore dell'acqua che però si sono rivelati inutili. La nostra richiesta ovviamente è un po' di pressione d'acqua durante la notte. Non c'è bisogno che ci sia una pressione che ti spacca i rubinetti ma almeno che ti faccia partire la caldaia quando tu apri il rubinetto è l'acqua calda, anche perché l'acqua la si paga noi e anche gli altri in conto corrente bancario, per cui alla mezzanotte del giorno della scadenza loro prendano soldi e che gli prendano buoni, perché di contropartita hanno l'obbligo di darci l'acqua. Grazie. Grazie. Grazie.